Come da tradizione la Premier League scende in campo nel consueto Boxing Day di Santo Stefano sarà la quindicesima giornata del campionato inglese ad animare questo 26 dicembre con alcune partite veramente interessanti fare puntati soprattutto sul big match nelle zone alte della classifica quello tra il Leicester e il Manchester United alle 13.30 e naturalmente sul derby londinese tra Arsenal e Chelsea a partire dalle 18.30 spazio poi per Manchester City e Everton impegnate entrambe alle ore 21 rispettivamente contro il Newcastle e Shetfield United Boxing Day che non comincia sotto i migliori auspici per il Manchester City che dovrà fare a meno del match contro il Newcastle di Gabriel Jesus e Killer Walker i due calciatori sono infatti risultati positivi al Covid-19 oltre al match in programma per Santo Stefano saranno costretti a saltare anche la gara del 28 dicembre contro l'Everton ad annunciarlo è stato direttamente il club inglese con un comunicato sul proprio sito ufficiale nel quale ha specificato come anche due membri dello staff siano risultati positivi oltre ai due calciatori non una buona notizia per Guardiola dunque ci si augura di riavere a disposizione entrambi i giocatori in vista del match del prossimo 3 gennaio contro il Chelsea grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti